This is what I call a life Ahi sta Stavo dando zoom di caso Si Wonderful Tiene algo que me quiere hacer estremudar el agua El agua tiene algo que me quiere hacer estremudar è un gasco maricinico che ha fatto è che è delicioso è che è il vapor wow si è tutto il vapor no, non ti faccio daño si questo ti va a curare si è un masaje a la espalda delicioso grazie